Presidente Pat McQuaid, solo un anno per la Toscana 2013. Solo un anno per andare e speriamo molto di questo. Siamo iniziando una grande scuola in Italia perché non abbiamo mai avuto una World Championship in Toscana, e anche se abbiamo avuto in Italia molte volte, è una delle regioni più belle di Italia. Quindi, sarà molto bene la World Cycling Championship. Siamo speriamo di una buona settimana. Siamo in una buona regione, cosa aspettate? Ho aspettato perché è una buona regione di città, con molti spiega e spiega. Ho aspettato una buona settimana. Ho aspettato una buona settimana, ho aspettato una buona competizione. Ho aspettato una buona cultura. Ho aspettato una magnifica scena. Ho aspettato una buona recezione, un buon salto e, ovviamente, un buon salto. Ho aspettato un buon salto.